Ovviamente, ahimè, un terremoto con alcune centinaia di morti e con le ripercussioni che ha avuto anche da noi meriterà tutto il sostegno e l'intervento economico, umanitario e sociale possibile. Mi sembra che sia tutto fortunatamente sotto controllo e gli allarmi del tsunami o altro si sono rivelati fortunatamente eccessivi. Detto questo, già in questa settimana sul tema cantieri sulle autostrade e cantieri sulle ferrovie avrò due riunioni perché bisogna accelerare. Bisogna accelerare, ci sono alcune autostrade, penso all'A14, la regione Marche, Abruzzo, che hanno cantieri che vanno avanti da anni, da una vita e penso ad alcuni interventi ferroviari che RFI dovrà fare, deve fare da anni. Vediamo di accelerare.